Benvenuti alla quarta puntata del nostro serial in ambulatorio. In questa puntata affronteremo il problema delle lesioni che decidiamo di asportare, qual è l'approccio che seguiamo, qual è la procedura e risulterà evidente che c'è assoluta necessità di confronto, di confronto multidisciplinare col patologo e con gli altri attori coinvolti in questa storia.